www.marvizzopoli.it e ne dico da il settimanale Mondo Padano anche in digitale su www.mondopadano.it ecco qua, inserto con il salmone economia e finanza e lavoro nella rubrica, sì sì, nella rubrica risparmio e finanza ecco qua, risparmio e finanza, nuovo articolo di Giosi Biondelli educatore e consulente finanziario, eccolo qua che parla dell'imperativo di costruire la fiducia trafocosi i conflitti, i cambiamenti climatici e l'intendenza artificiale l'evento è Davos, la 58esima edizione del World Economic Forum 120 paesi e 60 capi di Stato e di governo quindi conclude con una frase di Papa Giovanni Paolo II la fiducia non si acquista per mezzo della forza neppure si attiene con le sole dichiarazioni la fiducia bisogna meritarla con gesti fatti concreti noi facciamo sempre quello che diciamo fatti concreti, educazione finanziaria e una buona lettura